Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui, ritornati in compagnia di mio padre Ciao a tutti E quest'oggi andremo a scioppargli il pass battaglia Ma non mi serve Guarda che bella skin Quella Questa Ora però non ti faccio vedere tutto il pass battaglia Perché ragazzi se questo video dovesse raggiungere i 10.000 mi piace Andremo a far reagire papà all'intero pass battaglia A tutto quanto, te lo faccio vedere tutto Quest'oggi faccio vedere solo le prime cose che andrei a sbloccare La prossima volta te lo farò vedere tutto Questa skin fa parte del pass battaglia È la prima skin No ma tu una volta hai comprato il pass battaglia Tutto quello che vai a sbloccare di quel pass battaglia è tutto gratis Vamos Ma hai detto 10 euro 10 euro Eccoli qua Ok Pass battaglia potenziato Quindi sono più forte Adesso sei fortissimo Abbiamo due skin abbiamo sbloccato Questo qui e questa qui Tra l'altro questa qui come vedi Più fa i punti esperienza E più si spoglia No in realtà più si veste Dovrebbe essere il contrario effettivamente Però guarda vedi questo è quello finale E quest'altro che sta per apparire Forza è È quello iniziale Dovrebbe essere il contrario Vabbè Comunque Con quale vuoi andare a giocare Tra le due Eeeh E lei va Hai visto mai Dovresti fare in tenere qualcuno Non mi spara Dici non te sparano Vediamo Vediamo se funziona la tecnica di mio padre In singolo Andiamo Ah devo giocare Devi giocare Tra l'altro ragazzi Volevo fare anche un altro video Con mio padre Perché dato che questo fine settimana Sarò a Games Week In questi giorni Devo prepararmi Dei video E ne ho un paio Oltre a questo in mente Con mio padre Quindi Quindi Servono i 10.000 like Per fargli Fare la reazione A tutto il pass battaglia Ma Vi lascio anche un sondaggio Qui in alto a destra Ne schiede Per anche un altro video Ovvero C'è la nuova isolotta Bene Votate il sondaggio Lasciate anche un bel mi piace Se vorreste quel video Lo faremo Atterrare Sull'isolotta Perché adesso Non ci posso andare Sì Però Adesso Non ci andare Ti ci facciamo andare Perché c'è un sacco di gente Aspetta Non ci andare adesso Ti ci facciamo andare Nel prossimo video Perché La reazione del pass battaglia Dovrebbe uscire domenica Sempre se raggiungiamo I 10.000 mi piace Invece Il video Il video Il video Il video Del Di papà Che scende Sull'isola Fluttuante Potrebbe uscire anche Proprio in settimana Magari giovedì O venerdì Detto questo Io ti lascio proprio Libera 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 Proprio la partita La partita libera Ok vai Fai tu Vediamo Guarda quanti qua Adesso si Dove posso nascondere Qua C'è la casa lì O c'è qua il tempio Proprio del pomodoro Che c'è dentro Il tempio del pomodoro E qua non c'è niente Vai sotto Non l'hai visto C'erano delle cose C'erano delle cose Di là Oh cos'ho cascato Ok bella la visuale Mamma mia Ma perché naso Vai 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 Ci sta la roba Prendi Prendi tutto Aspetta pure di là Pure di là Ok Ho capito Poi hai preso il muro In piedi Bravo Bravo Ok vedi Lo scudo Lo prendi Bravo Vai mettitelo Aspetta Vai Oh Se l'hai ricordato Non gli ho ricordato nulla Ragazzi Non gli ho ricordato C'è scritto C'è scritto Vabbè però Non l'hai fatto piano C'è l'hai fatto anche Con una certa velocità Alla fine Ah si Ok sei anche In safe Cioè Nella zona sicura Si si L'ho capita Senti sto rumore C'è qualcuno E si sta per No 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 Catabultare No ok Se n'è andato No è quello là Aspetta come si mira Devi cambiare l'arma Ce ne stanno tre No aspetta Aspetta un attimo Vai vai Ammazza ammazza No raga Quei due mesi Stavano timmando Che stavano fa No ti è C'è ce n'erano due Che non si sono sparati Ragazzi O non avevano armi Stavano timmando Non lo so Comunque tu puoi anche Rimanere nascosto Fatti gli affari tuoi No mi senti Ti è appena apparso dietro No 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 Si si L'hai colpito L'ho ammazzato L'ho ammazzato L'ho ammazzato Ho vinto Girati Dove Girati Dove ci stai di qua Tu c'è stato qua Ce n'era un altro No dietro Te lo sto di Girati Mannaggia Io ho vinto Guarda qui Uno Io ho vinto Ma perché c'è la fasciata Capitano E che so capitano oggi Vuoi dire che ho vinto Mi porta bene Questo c'era poco di vita Se lo prendevi Mannaggia T'ho detto Girate E ma girate dove A sinistra e a destra Mi devi dire dove Ma non lo senti Ma che sento Lui Totalmente troppo impegnato Comunque no Aspetta Spieghiamo la storia Della fasciata capitano Allora Questa mattina Mia madre l'ha trovata Sotto il letto C'era trovata sotto il letto Ha trovato sta fasciata capitano Tra l'altro Neanche me la ricordo L'ho lasciata sul letto Papà l'ha presa E se l'ha messa Pratico Vabbè Mo se la leva Invece se le Se le Vabbè Mo la sono scordata Però Ma ha portato bene Mo la tengo Vabbè Ripartimo Vai Fammo ne un'altra Ma ha ammazzato uno Ma era già successo Ma non così Troppo bello Dai dai Nel'altà Non è la sua primissima kill Perché una volta Mentre stava giocando Per conto sua Una kill l'ha fatta Ma quella proprio Però Però Vai Premi il triangolo Però cioè Non mi aspettate Che sta giocando tantissimo Sempre poco sta giocando Però E niente Mamma mia Sono soddisfazioni Grandi soddisfazioni C'è la miseria Hai campi da tennis Tennis C'è la piscina C'è stanchi il golf Qua un giorno Stanchi il golf Oh se senti qualcuno Dimmela lui Te lo dico subito Questa è l'arma Con cui prima Ho ucciso quello E fiamola In realtà è una Delle più scarse Però Non te sta proprio qua La safe Cioè no Non è lontana Ma sento un'altra cosa Adesso si Sta qua fuori Ce n'è uno qui fuori Uno che Sta anche correndo Un avversario Si Ah questo che senti È una macchinetta Delle armi Però c'è anche qualcuno Che sta spaccando qualcosa Di me dove sta Che non lo vedo Eh non lo sento più E manco io lo vedo Però lo sento Però a mo non l'ho più sentito Quindi faccio pure un po' Dei materiali Capito? Bravo Che oggetto è quello Laggiù che vedo? È la casetta Dei tre porcellini Ce ne può fregare Oh qualcuno ha messo la trappola Qualcuno ha messo la trappola Dentro la casa E perché? Dentro la casa Si Come cacchio fai a capire Che hanno messo qualcosa Dentro la casa? Che non hai sentito quel rumore? Eh ho capito È il rumore della trappola Eh ho capito Dietro c'è la casa È una trappola Dentro la casa Vabbè Chi è quel rumore? Eh Pandora Ah Pandora la porta Pensavo Non c'era qualcuno qua Pensavo stavate a scherzare Non so se si è sentito Ma c'è Pandora Che ha bussato alla porta E papà pensava Bussi qualcosa nel gioco Qua che c'è? Qualcosa? Aspetta Ah vabbè Gli ho sparato È uguale Gli ho sparato Vai prendilo Oh no No Ma che non è Perché stai fermo? No fermo Che sta a fa? Scappa Perché spari? Perché cacchio Premi R2 Aspetta aspetta Dove premere questo? Dove devo sparare? Sta sull'altra montagna a sinistra Sto stronzo Quindi me sta a vedere? Eh sì Ti sta pure a mira col cecchino Ah io gli sto a far capire niente Hai visto? Eh ma come faccio? Scappo Guarda Trentunesimo però eh Bello Questo c'ha la tua stessa skin C'ha il cane dietro però C'ha sì Gli animali Eh ma lo devo portare a Pandora Sì ma Pandora Dopo è troppo forte Dopo vinci troppo facilmente Sì ma Pandora pesa lì dietro Pandora pesa lì dietro Non so quanto la potresti portare Comunque ragazzi Ma non stava all'altra montagna Comunque eh Si è avvicinato Che vuol dire? Un quarto d'ora dopo Se stava sulla montagna tua Ah Vabbè comunque ragazzi Una kill addirittura L'ha fatta Non so neanche che titolo Dare a questo video Se la kill Se Se il fatto che gli abbiamo Shoppato il pass Ma fa un titolo Come si diceva? Click e back Kick e back Papà i titoli clickbait Li chiama kick e back E ci metti Papà vince una partita Poi in verità Ho ammazzato solo uno Sì assolutamente Faremo una cosa del genere E Niente Allora Domenica Se raggiungiamo i 10 di un mi piace Gli andremo a far Fare la reaction A tutte le cose nuove Del nuovo pass battaglia Della stagione 6 E inoltre Se votate al sondaggio qui E mi fate vedere Tanto bel supporto a questo video Lo andremo a far atterrare Sull'isola E lì ci sarà da divertirsi Tu non ti vedere i video In questi giorni Così non ti spoileri niente Infatti Questa partita Avevo paura A fartela fare Perché ha visto i cani Perché sono novità Della stagione 6 Ha visto la casetta Dei tre maialini Non ti guardare nulla Così la reaction È abbastanza veridiera E E niente Noi ci becchiamo Domani nel prossimo video Qui sul mio canale O dopo i live Su Twitch Ciao ragazzi Sono un pro player Ciao ragazzi Un super pro player Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao a tutti Grazie a tutti.